Buonasera, buonasera a tutti dalla voce di una voce, dal professore di vita, dal docente di esistenza, dal più grande lavoratore che l'Italia abbia mai conosciuto. Scusa se parlo veloce, mi piace se parlo veloce? Come sapete mi assunto poste italiane a tempo determinato, dal 2 novembre lavoro alle poste, all'inizio in affiancamento, un po' di formazione sulla sicurezza, da due giorni sto lavorando da solo, devo dire che il lavoro è un po' faticoso, ma mi sta piacendo, spero di migliorare ogni giorno che p***a. Allora, voglio parlare d'altro però, voglio commentare una minchiata che ho letto poco fa, un commento assurdo, uno mi fa. La vergogna di Mr. Anichilista, ma che discorsi assurdi e strani che fai? Prima critichi chi ha 37 anni e vergine, giudichi chi ha 37 anni e vergine dicendo che ha sbagliato, e poi, faranno di te, tu è ricco, che ha 37 anni non hai quasi mai lavorato, il tuo curriculum è sostanzialmente quasi vuoto, in questo caso di chi è colpa? Del mondo brutto e cattivo? È colpa tua. Perché dici che tra i sette anni e vergine è colpa solo sua, non del mondo brutto e cattivo. E del fatto che tra i sette anni non hai mai lavorato quasi, di chi è la colpa? Del mondo brutto e cattivo? È colpa tua. Pensate in un commento quante fesserie, è incredibile, eh? Certa gente ne è capace. Darei un premio nobile per le minchiate in due frasi. Uno, non ho mai criticato, non ho mai giudicato un 37enne, un uomo donna che sia, vergine? Mai, mai. Tendo nel mio percorso di crescita non giudicare nemmeno chi fa del male, al massimo mi allontano, ma non giudico nemmeno chi fa del male. Figuriamoci se posso giudicare una persona perché è vergine. O semmai detto, rispondendo ad alcuni vergini 37enni, 40enni, 45enni, che accusano il mondo, che accusano le donne, non si è mai detto, guarda che non dovete cercare il nemico, non dovete cercare il capo espiatorio da colpevolizzare. Se siete vergine a quell'età, perché tutto non deve essere tutto lì. Cioè non è la cosa più importante di questo mondo, anche se capisco la sofferenza, ma non esiste soltanto quello. Ma in secondo luogo, forse dipende da voi. Dovete magari migliorare qualcosa. Ma non ho colpevolizzato. Ho detto che se uno si trova in una certa condizione, è assurdo attaccare gli altri. Cioè io ho 87 anni, ho 40 anni, non ho mai abbiaciuto una ragazza, non ho mai abbiaciuto una ragazza, la colpa è delle donne. Senso. Cerca di capire le ragioni che magari ti portano ad avere delle carenze. Ma questo non significa dire che sei sbagliato. Significa lavorare con te stesso, guardare dentro, anziché attaccare il fuori. E questo non significa che quelli che sono non vergini, che le fanno tanto di sesso, vuol dire che siano migliori di te. Io dico queste cose, figuriamoci se posso criticare il vergine del settembre. Chiaro che se il vergine del settembre accusa alle donne, parla come se ci fosse il diritto a fare sesso. Insomma, devo fargli, devo farlo ragionare. Poi, punto 2. Io ho 37 anni, è vero, adesso sto lavorando ma ho pochissime esperienze lavorative. Dipende da chi? Dal mondo brutto e cattivo o dipende da me? Certo che dipende da me. Perché io ho mai detto che non ho mai lavorato per colpa del mondo brutto e cattivo? Ho mai colpevolizzato il mondo? Tutto in un basso la mia felicità sul fatto di lavorare o meno. Quindi non c'è mai stata una mantella in questo senso. Ma al di là di questo, così come non deve essere al centro di tutto una ragazza o un ragazzo che ti vuole, non deve essere al centro di tutto neanche il lavoro che hai o che non hai. Per quanto riguarda la felicità, poi capisco che a seconda delle necessità può essere più o meno un'urgenza. Così come posso capire che è un bisogno primario sentirsi amati e poter anche vivere la sessualità. Io non mi sono mai lamentato le mie condizioni. Ho sempre detto che al di là di mie difficoltà perché ho delle fobie sociali, è una scelta mia, è stata una scelta mia. Quando mai accuso del mondo brutto e cattivo? In ogni caso, certo che dipende da me. Scelta mia e anche per quanto riguarda le mie difficoltà a livello di socialità o delle fobie sociali o comunque una personalità evitante o qualcosa del genere, dipende da me. Ma che dipende dal mondo brutto e cattivo? Certo, se io ho una fobia o qualcosa che mi blocca, c'è una motivazione che deriva dal mio passato. Il bullismo può avere inciso, ma io non colpevolizzo gli altri. Adesso è tutto colpa degli altri. È successo. Se io voglio fare un qualcosa, io per varie motivazioni non mi sono mai molto adoperato, a parte ora. Anzi, in realtà è capitato anche ora, non è che ho cercato a tutti i costi, per un lavoro. Ma ove lo volessi fare, non ha senso dire io vorrei fare qualcosa ma non posso perché il mondo è avuto cattivo, perché mi hanno fatto del male, quindi ho una personalità per cui non tutto è facile. Devo cercare di lavorare con me stesso. Questo non significa negare che il mondo può aver avuto un impatto. Il 37enne vergine, che magari ha delle difficoltà relazionali, è bloccato, è ipertimido o iperinsicuro se lo è, perché magari qualcuno nella sua infanzia è stato carente nei suoi confronti. Ma non si nega questo. Però a chi spetta? Ok, ci sono stati dei trami, ok, delle difficoltà, ok, il mondo è superficiale. Il mondo non ti ha aiutato, anzi, ti ha fatto del male. Ok, ma ora chi può cercare di superare questo? Per provare ad avere più possibilità di avere una ragazza, di avere un lavoro, per caso io avessi il soffetto di quello o ne soffrissi? Dipende da me. Ma dire che dipende da me non vuol dire colpa mia. Dire che dipende da me, devo lavorare, se uno vuole una cosa deve cercare di lavorare. Cioè, è come il tema della felicità. Se uno non è felice, da chi dipende? La mancanza di felicità. Dipende da lui. Da chi dipende la possibilità di poter essere più felice un giorno? Da lui. Che non significa è stupido o è colpa sua se non lo è. Significa che solo lui può lavorare con se stesso per cercare di superare le difficoltà. È facile? No. Per qualcuno è difficilissimo. Ma non può dipendere dall'esterno. Quindi non ha senso colpevolizzare l'esterno. Riconoscere cosa dell'esterno può mettere in difficoltà, può non aiutare, può aver fatto danni? Assolutamente sì. Ma poi bisogna andare avanti, fare il passaggio successivo. È una cosa che non mi stancherò mai di dire. Non bisogna fare, diciamo, l'errore di credere, non bisogna fare l'errore di credere che solo l'esterno conta. L'esterno è importante, l'esterno è decisivo. Però ha senso continuare a vivere accusando gli altri? Riconoscere i mali degli altri? Sì. Ma un trentasettenne che è verge, un quarantenne che è verge, che cosa ci guadagna nell'accusare le donne? Eh, le donne vogliono solo gli stronzi, i ricchi, bellissimi. Ok, una volta che l'hai detto? Eh, beh, lo dico perché essendo le donne così io non potrò mai trovare. Però questo ti mette in una condizione di totale passività. È impossibile perché non è vero. Non è vero. Magari la maggior parte delle donne, ok, non ti vorranno, ma esiste una minoranza. E se continui a fare la vittima in questo senso, che nessuno ti vuole, anche quella minoranza ti sfuggerà via. Mi raccomando, in ogni caso, anche se alcune cose possono essere importanti, non facciamo basare la nostra felicità su cose esterne da noi. Le cose esterne da noi, soprattutto le relazioni che sono importanti, sono una bella cosa, arricchiscono, possono essere un spunto per spiccare il volo. Ma non dimentichiamoci, appunto, noi stessi. Tutto parte da noi, il nostro approccio. Ok? Quindi smettiamo di dire cazzate, perché io ho mai fatto la vittima per non aver mai lavorato, mai accusato il mondo, dipende da me sì, e un quarantenne vergine dipende da lui. Ma non significa che è colpa sua. Significa che deve lavorare per riuscire a cambiare il proprio futuro. Volere potere? No, io non vi dirò mai volere potere. Assolutamente. Non è che tutto quello che uno vuole può. Però si può piano piano cercare di migliorare la propria condizione rispetto a quello che si vorrebbe. Per qualcuno è difficile, per qualcuno è una chiave che davvero non gira ruggentissima. Altrove non si trovano le chiavi. Ok? Commentate se vi va, un bel pollicino in su. Dai, mettete questi pollicini, se vi piacciono i miei viti. Commentate, condividete, se vi va donate. Può compare un nuovo microfono, se volete aiutarmi, fate una bella donazione per i post, scrivete una donazione, microfono, oppure un bel, bonifico, donazione, microfono. Oppure aderite abbonando, via il pattern, eccetera. Ciao!